A chi interessa quali saranno i ministri del prossimo governo Meloni, che diventerà così la prima donna ad assumere la carica di presidente del Consiglio? A me pare proprio che interessi a poche persone, anzi pochissime, anzi solo ai politici, mentre alle persone normali, come il suo dirsi a Roma, non gliene può fregar de meno. Le persone normali hanno problemi ben più importanti ai quali pensare. Certo, queste elezioni arrivate dopo anni che, senza esagerare, potremmo definire storici, potevano essere fondamentali. Ebbene, il fatto che, nonostante tutto ciò che è accaduto dal 2019, gli italiani non abbiano dato alcun segnale di cambiamento, è francamente sconfortante. Molto meglio le elezioni del 2018, che perlomeno avevano dato un segnale forte con il plebiscito a favore del Movimento 5 Stelle. Ma evidentemente è stato proprio il totale fallimento del partito di Grillo, che si è rivelato non solo un bluff, ma proprio una truffa per l'elettorato. Forse è stato questo a disilludere gli italiani. Gli italiani hanno quindi pensato che fosse inutile fare i Don Quixote e quindi fosse vano combattere contro i mulini a vento. L'Italia non ha votato per i partiti antisistema. Ed ora, così, semplicemente, a me sembra un paese perso, che vaga nel nulla cosmico. L'Italia ha votato in massa per Fratelli d'Italia, ossia l'unico partito che era stato fuori dal governo Draghi. Certo, lo ha fatto senz'altro senza eccessive illusioni, ma forse si aspettava qualcosa di più. Invece le prime dichiarazioni della Meloni sono state veramente sconfortanti. hanno fatto cadere le braccia anche al suo più accanito sostenitore. Non solo non è arrivato nessun segnale di cambiamento, ma al contrario tutti i segnali inviati dalla Meloni sono risultati in perfetta sintonia con il precedente governo e almeno questo, insomma, ce lo poteva evitare. Certo, non ci potevamo attendere molto, forse era più che scontato. Dopo che già 20 mesi fa era accaduto un fatto che non lasciava adito al minimo dubbio. Torniamo infatti al 5 febbraio del 2021. Già la data dice tutto, dice come il tutto fosse stato evidentemente programmato. Ripeto, 5 febbraio 2021, la data non mente. Perché? Perché due giorni prima, il 3 febbraio, Mattarella aveva ricevuto al Quirinale Mario Draghi, al quale aveva conferito l'incarico di formare il nuovo governo. Ebbene, due giorni dopo, appunto, il 5 febbraio, la Meloni aveva già annunciato che non avrebbe votato la fiducia al nuovo governo. E due giorni dopo, dicevo, Giorgia Meloni entrava ufficialmente a far parte dell'Aspen Institute. Un'organizzazione che quelli che così vogliono far credere di essere a la page definiscono un think tank, ossia un centro studi, un laboratorio di idee. Ma io lo definirei più propriamente un gabinetto strategico. Ricordiamo brevemente di che cosa si tratta. Aspen Institute, insomma, ufficialmente, è un'organizzazione no profit, finanziata non come i siti di informazione alternative con versamenti di un euro, due euro da parte di persone che hanno stipendi da fame. No, no, l'Aspen Institute è finanziata dalla Rockefeller Brother Foundation, dalla Carnegie Corporation, dalla Ford Foundation, insomma, avete capito. È un'organizzazione che annoverà fra i suoi aderenti l'immancabile John Elkan. Io mi chiedo, ma esiste un'organizzazione di quel tipo nella quale non ci sia John Elkan. Io ritengo di no, ritengo che coloro che fondano simili organizzazioni lo iscrivono d'ufficio, insomma. Vabbè, e in molti si chiederanno, ma cosa fa un think tank? E me lo chiedo anch'io cosa fa. Allora, sono andato a vedere quale sia il fine che si propone l'Aspen Institute. E ho trovato che al primo posto fra i suoi obiettivi vi è quello di incoraggiare le leadership illuminate. Avrebbero almeno potuto evitare di utilizzare il termine illuminate. Avremmo capito lo stesso, però perlomeno non sarebbero stati così sfacciati. Comunque, insomma, la cosa è semplice. Il mainstream sapeva benissimo che il governo Draghi sarebbe rivelato un bagno di sangue per gli italiani, che avrebbero punito severamente tutti i partiti che avessero votato la fiducia al peggior governo della storia repubblicana. Occorreva quindi tenere fuori un partito al quale sarebbero così andati i voti quando, alla fine dell'esecutivo, saremmo tornati alle urne. Quindi tutto programmato, nessuna sorpresa. Presi in giro gli italiani per l'ennesima volta. Certo, se almeno un partito fra quelli antisistema che si sono presentati alle elezioni avesse superato la soglia di sbaramento e fosse entrato in Parlamento, magari poteva essere un timido segnale di cambiamento, ma non si è data la possibilità neppure di fare una vera campagna elettorale. E soprattutto, ripeto, gli italiani erano disillusi e hanno così preferito non votare. Naturalmente non se ne parla, ma queste elezioni politiche hanno stabilito il record per quanto riguarda l'astensione dalle urne. Ossia mai nella Repubblica, nell'Italia repubblicana, diciamo, per le elezioni politiche si siano recati così pochi italiani alle urne. E dopo i terribili, terribili per la democrazia intendo, ma dopo questi terribili anni che abbiamo visto, insomma, la cosa che è ancora più rilevante, perché se gli italiani neppure in queste condizioni hanno sentito dentro di loro, diciamo, un moto di ribellione, capite che meglio non farsi illusioni, siamo veramente un popolo finito. Alcuni sostengono che la scelta della Meloni, poi come nuovo premier per l'Italia, non sia stata presa il 5 febbraio del 2021, ma risalga ancora a tempo prima, per la precisione, a 5 mesi prima. Nel settembre del 2020, infatti, la Meloni era stata eletta presidente dei conservatori e riformisti europei. Insomma, ecco, quello poteva essere il sigillo posto sulla persona, appunto, per accreditarla agli occhi della comunità internazionale. Il comportamento della Meloni, poi, nei 20 mesi del governo Draghi è stato emblematico. Non si può certo parlare di opposizione, insomma, non occorre aggiungere argomentazioni di alcun tipo. Il mainstream si è comportato così, come suo solito. D'altronde, con tutti gli organi di disinformazione del quale dispone e con il conseguente rimbambimento della popolazione, il gioco è assolutamente facile per loro. Ora vediamo se magari, con l'arrivo delle bollette energetiche, qualche italiano in più magari possa svegliarsi. Temo purtroppo di no, temo che, anzi, che prendersela con i nostri governanti la maggioranza silenziosa degli italiani seguirà ancora la disinformazione di regime e darà la colpa a leader politici di altri paesi. Nel frattempo nascerà il nostro governo, certamente ne parlerò, ma abbiamo la certezza già fin d'ora che non potremo attenderci alcun cambiamento.